Buona giornata a tutti, chi parla ai microfoni di Radio Gamma 5 è Claudio Simeoni che porta avanti la trasmissione Magia Stragonaria Paganesimo. Oggi la mia voce non è delle migliori, un po' di raucedine per cui tentate di portare un po' di pazienza. Scusate, sono da solo qui in radio perché Francesco non ha potuto venire per questioni di lavoro per cui non so neanche se riuscirò a portare fino alla fine la trasmissione. Vi do l'indirizzo, io sono Claudio Simeoni, via delle Vignole 4 Marghera, Venezia, e vi do l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo di Studi Politeisti, che è Casella Postale 53 Marostica, Vicenza. Ricordo che l'Istituto emette un bollettino di cui si può fare richiesta due o tre volte all'anno, basta scrivere alla Casella Postale e ve lo mandano. La trasmissione la volta scorsa abbiamo terminato il crogiolo dello stregone, abbiamo terminato sia il crogiolo dello stregone sia quello che era l'escursus storico della nostra ricerca. Bene, scusate, scusate un attimo ma c'è un qualche problema. Scusate ancora, abbiamo terminato l'escurso storico dell'operazione della stragueria che andava dall'800 al 1789. Io ho già preparato i dischetti per l'Istituto Mediterraneo di Studi Politeisti, sia per quanto riguarda il crogiolo, sia per quanto riguarda le trasmissioni che stiamo presentando in questo momento. In questo momento presenteremo un ciclo di trasmissioni riguardanti il paganesimo. Praticamente faremo le analisi e riflessioni su alcune strutture religiose pagane. Qual è il nostro scopo di questa analisi? È riuscire a mettere a fuoco quelli che sono i principi generali del paganesimo per andare a costruire il paganesimo moderno. La costruzione del paganesimo moderno passa necessariamente attraverso l'analisi delle strutture d'insieme degli antichi paganesimi. La difficoltà nell'analisi della religiosità pagana antica è dovuta al fatto che il paganesimo non è una struttura omogenea, nello spazio e nel tempo, ma muore e rinasce continuamente seguendo il sentire contingente delle popolazioni che lo esprimono. Il paganesimo è diverso non solo da popolazione a popolazione, da luogo a luogo, ma anche da generazione umana a generazione umana. Il sentire degli esseri umani si trasforma in continuazione adattandosi alle esigenze della vita. Se leggiamo i paganesimi delle grandi civiltà antiche, ci accorgiamo che le divinità pagane non erano presenti tutte nello medesimo istante, ma erano presenti in maniera diversa articolandosi anche per migliaia di anni. Il sentire romano ha radici nel sentire etrusco, osco, sabino, sannita e quello greco ha radici nel sentire delle popolazioni pre-archei. Il sentire, per esempio, del paganesimo egiziano attraversa migliaia di anni e, a seconda dell'organizzazione sociale, il sentire umano si riversa su delle immagini, delle tensioni, anziché su immagini e tensioni precedenti. Per costruire il paganesimo moderno, noi dobbiamo analizzare il paganesimo antico, cogliendo l'essenza e la formazione del sentire. Dobbiamo filtrare questo attraverso il nostro sentire e la nostra capacità di percepire il mondo. Infine, dobbiamo costruire il paganesimo moderno in funzione della costruzione della libertà, che dall'attimo attuale si proietti nei mutamenti. Per questo motivo sviluppiamo l'analisi di alcuni paganesimi, che proprio per essere piuttosto moderni, ci trasmettono il sentire pagano e le sue trasformazioni dall'avvento dell'orrore cristiano. Da quei paganesimi impariamo le articolazioni del paganesimo, oltre allo specifico sentire degli esseri umani. Infatti, questi paganesimi, che andiamo a analizzare, non hanno la grandiosità del sentire pagano, greco, romano o egiziano, anche se la loro conservazione spesso passa attraverso i poeti, ma hanno l'anima della determinazione, della resistenza all'arrivo cristiano e presentano l'intento di consegnarci le perde delle loro trasformazioni. Noi le raccogliamo e, per quanto possiamo, le utilizziamo. Da questa trasmissione comincieremo ad analizzare alcuni sistemi religiosi pagani per tentare di comunicare cosa sia la religione pagana e soprattutto il concetto di farsi Dio in contrapposizione al concetto cristiano di adorare Dio. Ricordo che la differenza maggiore tra paganesimo e cristianesimo è questa. Nel paganesimo è l'essere umano che si fa Dio. Non ha importanza come si fa Dio. Il paganesimo non dice che tu devi farti Dio in questo modo. È l'essere umano che si fa Dio. Mentre invece nel concetto cristiano e in tutte le religioni rivelate, l'essere umano adora Dio, cioè si mette in ginocchio davanti a Dio. Laudate domini, mi diceva mia figlia, che dal latino andrebbe tradotto letteralmente lodate il padrone. Per cui, ricordatevi sempre, la differenza tra paganesimo e cristianesimo è questa. Nel paganesimo l'essere umano o qualsiasi essere della natura si fa Dio. È un Dio. Mentre invece nel concetto cristiano scusate l'essere umano adora un Dio. Bene, parleremo del paganesimo urrita con le relazioni col paganesimo fenicio oggi. Dopodiché andremo avanti parlando del paganesimo finnico parleremo del paganesimo maggiaro parleremo del paganesimo lituano parleremo del paganesimo dei lettoni e infine concluderemo il nostro escorso col paganesimo dei baschi per cui analizzeremo questi sistemi per quello che ci è pervenuto. La popolazione urrita è una popolazione molto particolare nel panorama medio orientale. È una di quelle popolazioni che non sono state in grado non solo che sono state in grado non solo di costruire una civiltà ma di fare da ponte fra civiltà diverse e trasformazioni diverse. Gli urriti hanno costruito il divenire in direzione spaziale e in direzione temporale in altre parole hanno percorso lo spazio e impostato processi di mutamento oltre il tempo intervenendo nelle trasformazioni di altri popoli sia arricchendoli che adattandosi e integrandosi. Il loro nome è di origine incerta ma è probabile che derivi dal nome della città di Uri o più probabilmente si definivano gli abitanti della città di Uri l'attuale città di Urfa nota in Grecia come Edessa scusate è una città sindanea a Turchia meridionale presso il confine con la Siria furono gli urriti a respingere verso l'Egitto le popolazioni dell'Ixos ricordiamo che l'Ixos hanno semidistrutto l'Egitto a un certo punto erano i famosi popoli del mare dagli Urriti si staccò l'impero dei Mitanni che si sacrificherà nel tentativo di bloccare l'espansionismo del terrore assiro è necessario ricordare le differenze sociali esistenti fra i babilonesi e gli assiri per comprendere l'anomalia assira nel panorama medio orientale di quel tempo per comprendere basta conoscere la posizione dell'essere umano femminile all'interno del sistema sociale e della famiglia fra gli assiri il potere del marito giungeva fino a uccidere la moglie in Babilonia la posizione giuridica della moglie invece pur inferiore a quella del marito era superiore a quella esistente in tutti gli altri paesi dell'antichità anche perché essa poteva avere un proprio patrimonio questo è sufficiente per inquadrare l'entità e la portata religiosa dello scontro questa impostazione sociale babilonese fu introdotta probabilmente dagli elamiti una popolazione proveniente dall'attuale Belucistan gli elamiti assunsero la scrittura cuneiforme dei sumeri ma introdussero la percezione del lato femminile della vita come socialmente importante scusate ma è bronchite non mi lascia spazio alla fine gli urriti assieme al regno dei mitanni alla fine gli urriti assieme al regno dei mitanni verranno fatti sparire dalla scena della storia ma non del suo potere religioso infatti spariti il regno assiro la religiosità urrita si trasformerà diventando l'antica religione siriana dopo aver fondato anche la religione itita ricordiamo che la religiosità urrita diventa la religiosità itita anche che tenterà di fermare il nuovo errore che si stava articolando quello della religione ebraica nella religione urrita la cosmologia ha origine da Anu che solo e assoluto si muove nel vuoto finché Kumarbi lo distrugge generando gli dei Tesup il tempo toglie il dominio a Kumarbi il dominio dell'universo la mitologia è molto chiara Anu è la coscienza di sé che precede l'universo che quando cessa di esistere costruisce il caos la luce dell'esistente nella quale si formano le coscienze di sé e il ciclo delle trasformazioni divine il caos stesso perde il controllo di sé quando il tempo attraverso il processo di adattamento di tutti gli elementi presenti nel caos riordina struttura e adatta fino a ricostruire la coscienza di Anu alla fine del tempo Tesup veniva raffigurato sopra due montagne o nell'atto di soggiogare il giorno e la notte sceri e curri il giorno e la notte la cui conseguenzialità determinava la misura del tempo la sequenza del mutamento attraverso il quale si ricostruiva la coscienza di sé Anu coscienza di sé Anu la cui costruzione passava attraverso la coscienza di sé dell'essere sole che è Pat che veniva considerata moglie del tempo una moglie dura e determinata nel dare l'assalto al cielo tanto che veniva raffigurata in groppo ad un leone questa sequenza è fondamentale in tutto il Medio Oriente la coscienza Anu viene esautorata dal padre degli dei che viene esautorato dal tempo che ricostruisce Anu è la sequenza generale su cui si fonda tutto il paganesimo la ciclicità assoluta delle trasformazioni tutte le altre divinità sono coscienze che entrano nel gioco della formazione del divenire il divenire e la costruzione della coscienza di sé Anu questo meccanismo percepito attraverso lo spazio e il tempo si trasferisce nella religione dell'antica Siria Adone considerato la natura rinasce ad ogni stagione dopo l'inverno la primavera della vita ricordo che non prendo le telefonate questo darà via alcuni misterici nella Grecia antica mentre il lato femminile della natura con il nome di Atargatis venne accettato ed ammesso anche dai romani sotto il nome di Dea Siria la divinità più importante dell'antica Siria era Baal l'energia della vita l'energia della vita che dalla madre terra si sprigiona per alimentare l'essere natura favoriva la fertilità dei campi regolava le piogge e le falde freatiche questa figura subì parecchie trasformazioni a mano a mano che la percezione dei popoli si espandeva fu identificato sempre con l'energia vitale la forza in grado di costruire le coscienze di sé di qualunque essere divenne il temporale come padre degli esseri di sola energia vitale divenne un toro come identificazione del principio maschile dell'essere natura fu identificato col cielo come padre e generatore dell'essere natura e ancora con l'essere sole come espressione dell'energia vitale che si irradia nello spazio anche Baal quando era identificato con l'essere natura moriva e rinasceva a seconda della velocità con cui l'energia vitale scorreva e dello sviluppo delle coscienze di sé Baal non è nessuno delle divinità urrite ma è la sostanza di Anu che priva della coscienza di sé ricostruisce Anu questo sistema religioso divenne proprio dei fenici Baal fu considerato il maggior rivale del Dio di Israele se Baal è l'energia vitale che si trasforma in coscienza di sé il Dio degli ebrei è la coscienza che si ciba di energia vitale stagnata è il padrone degli esseri umani colui che vuole sbarrare la strada affinché gli esseri umani non possano cogliere dall'albero della vita eterna Baal è il costruttore della coscienza ed è l'alimentatore dell'eternità di ogni coscienza di sé esistente nell'antica religione siriana abbiamo un'altra divinità che muore e rinasce identificata anch'essa nella natura ed è Esmun considerato Dio della natura e della salute del corpo fisico in realtà anche questa divinità ripercorre le tappe della costruzione della coscienza di ogni essere che si sviluppa attraverso dei cicli a seconda dello stadio in cui si trova è importante parlare della natura dal punto di vista pagano la rinascita scusate un attimo è importante parlare della rinascita dal punto di vista pagano la rinascita pagana non è né un processo di metempsicosi né un processo di reincarnazione né un processo karmico scusate il paganesimo riconosce un processo continuo di costruzione della coscienza che nell'essere della natura va dall'attimo in cui la coscienza tenta di dilatarsi al divenire uno con l'universo questo processo è diviso in fasi di sviluppo dove una fase costruisce gli elementi per affrontare le fasi seguenti le rinascite sono gli arrivi nelle fasi seguenti non il ritorno al corpo fisico per quanto riguarda la rinascita di Adone dal punto di vista fenicio non greco la rinascita di Esmum le rinascite di Baal non rappresentano delle rinascite vere e proprie ma scandiscono il respiro dell'essere natura il suo rinnovarsi il giorno e la notte dell'essere natura va sottolineato come la religione ebraica esprime un odio feroce contro la vita e nel contempo la necessità della sottomissione sia Elia che Osea si accaniscono violentemente contro il culto di Baal nel tentativo di distruggere la vita non è un caso che nei Vangeli al momento della trasfigurazione parlo di Vangeli ufficiali accanto a Gesù ci siano i due maggiori criminali della storia ebraica Elia il macellaio della vita e Mosè l'artefice della sottomissione assoluta mediante i dieci comandamenti scusate ma la voce fa un po' quello che vuole la contrapposizione la contrapposizione diretta all'ideologia religiosa ebraica avviene proprio da parte della religione fenicia per questo motivo diventa importante portare questa escursione e terminare questa escursione nel pensiero della religiosità pagana con la religiosità fenicia alla quale la religiosità ebraica oppone il proprio terrore a parte Baal che era un sentire religioso comune a tutti i popoli semitici c'è l'essere natura chiamato Adone e venerato sia dai fenici dell'isola di Cipro che nella città di Biblos abbiamo già parlato di Adone e un altro aspetto dell'essere natura noto come Esmu che ciclicamente muore e rinasce e anche di questo abbiamo già accennato dalla quale i cristiani prenderanno spunto per descrivere la favola della resurrezione del loro inesistente Gesù di Nazareth fatalità negli scritti cristiani troviamo un tale Beelzebub che sarebbe più corretto chiamare Beelzebub il caos dell'energia vitale dal quale prendono forma le coscienze o se vogliamo gli dèi visto che ogni coscienza di sé è un dio partecipe al divino dell'universo venerato venerato nella città palestinese di Akaron gli ebrei che disprezzano la vita adorano un dio che si compiace del sapore dell'olocausto definiscono Beelzebub il signore delle mosche dimenticando che essi stessi sono coscienze che lavorano per diventare eterni se non preferissero essere sacrificati in l'olocausto per compiacere il loro dio infatti si definiscono il popolo proprietà del loro dio nel nuovo testamento il disprezzo per Beelzebul giunge in Matteo che esaltando il Gesù che distrugge il divino dentro gli esseri umani ricordo che Gesù scaccia i demoni però i demoni in greco è il divino che cresce dentro l'essere umano cioè non è il demonio della descrizione cristiana e scacciando quel divino cioè Matteo vanta il proprio Gesù che scaccia quel divino scacciando quel divino a terrore della vita che si trasforma in coscienza di sé diventando divinità fondando il proprio divenire nell'eternità dei mutamenti nel Vaggeo di Luca troviamo anche l'idolo detestabile Melek detto anche Molok i cristiani lo detestano davvero infatti Molok altro non è che la coscienza di sé del sole mentre fonda il proprio divenire nei mutamenti favorendo lo sviluppo di ogni coscienza di sé in questa parte dello spazio i cristiani indicano questa funzione dell'attività del loro Dio il loro padrone non nel divino che circonda gli esseri umani ecco come la storia religiosa di un paganesimo attraversa 3000 anni prima del profeta dei cristiani e giunge fino a noi l'essenza attraversa 5000 anni anche se le figure sono distorte spesso dimenticate attraversando momenti percettivi diversi ci portano l'essenza del paganesimo antico finché noi possiamo ricostruire il paganesimo futuro lunghi fili rossi legano i paganesimi attraversando le percezioni specifiche un lungo filo rosso dal paganesimo urrita giunge fino a noi noi ci limitiamo a prenderlo a guardarlo con dolcezza lo facciamo nostro e speriamo di alimentarlo rinnovando la forza della percezione umana per quanto possiamo scusate ancora scusate ma sono venuto in radio con bronchite e Raul Cedine e sto comunque tentando di andare avanti cosa cosa ci ha fatto capire l'analisi di questo tipo di paganesimo innanzitutto la ciclicità universale che cosa è il paganesimo il paganesimo non è altro che il percorso delle coscienze che vanno a ricostruire la coscienza universale dunque per il paganesimo non esiste un dio creatore ma esiste l'esistente che va a costruire la coscienza universale questo lo abbiamo sempre detto ma cosa implica questo implica prendersi la responsabilità di quello che si fa prendersi la responsabilità di quello che si è prendersi la responsabilità della propria esistenza non delegare niente a nessuno e questo è il primo aspetto secondo aspetto abbiamo visto che la costruzione della coscienza universale passa attraverso i mutamenti passa attraverso le trasformazioni del tempo e abbiamo visto come ci siano una serie di rinascite cioè ci siano delle fasi di trasformazione pertanto c'è l'essere feto diventa l'essere fanciullo c'è l'essere umano adulto c'è l'essere luminoso e così via abbiamo visto questo abbiamo visto come si riconosca non solo la natura cosciente di se stessa ma si riconosca il sole si riconosca tutto quanto ci circonda come essere divini dal paganesimo urrita per il momento prendiamo questo che cos'è dunque il paganesimo è il riconoscimento che quanto ci circonda è divino è il riconoscimento che quanto facciamo ci costruisce o ci può distruggere io spero che per oggi questi insegnamenti vi possono bastare insegnamenti affermazioni deduzioni chiamatele come volete allora vediamo un attimino finito il paganesimo urrita ricordo che possiamo voler fare il paganesimo finnico che è un po' più breve vediamo un attimino un po' di rassegna stampa pedofili nella chiesa l'allarme di Voitila io ho già parlato un sacco di volte di questo problema il problema non nasce dal fatto che alcuni preti se ne approfittano i bambini è una questione dottrinale ora ho già parlato io ho accennato in una trasmissione che stavo facendo una ricerca per definire il Gesù di Nazareth per definire alcune cose che mi parevano strane e potevano identificare la descrizione specialmente quella fatta da Marco un Gesù di Nazareth che fosse un pederasta o comunque a Marco interessava far passare alcune affermazioni che potessero coprire alcune cose in effetti ho scoperto un'altra cosa ancora che Marco come evangelista è stato cacciato da Paolo era inizialmente un apposto di Paolo è stato cacciato non si sa bene per cosa bene io però ho da un altro vangelo l'insegnamento del lasciate che i fanciulli vengono a me ce l'ho letto in un altro modo e vorrei anche leggervelo vorrei leggervelo per farvi capire la differenza che esiste fra i vangeli ufficiali e gli insegnamenti magici cioè gli insegnamenti quelli che i cattolici hanno bruciato cioè in effetti i vangeli erano molti di più chi andava in giro a diffondere il proprio pensiero erano moltissimi e la figura di Gesù in realtà è una figura generica che andava a identificare un personaggio ipotetico al quale si mettevano in bocca i propri insegnamenti ebbene nel vangelo che è stato bruciato e che è stato ritrovato sotto le sabbie del deserto si legge Gesù vide dei bimbi che succhiavano il latte beh questo non ha trovato nessun vangelo ufficiale disse ai suoi discepoli questi bambini che prendono il latte assomigliano a coloro che entrano nel regno gli domandarono se noi saremo bambini entraremo nel regno Gesù rispose loro allorché di due farete uno allorché farete la parte interna come l'esterna la parte esterna come l'interna e la parte superiore come l'inferiore allorché del maschio e della femmina farete un unico essere sicché non vi sia più né maschio né femmina allorché farete occhi in luogo di un occhio una mano in luogo di una mano un piede in luogo di un piede e un'immagine in luogo di un'immagine allora entrerete nel regno cosa significa questo che solo nella misura in cui costruirete il vostro corpo luminoso riuscirete a trasformarvi sarete come dei bambini che cos'è il bambino è il feto che si è fatto fanciullo bene l'essere umano deve farsi essere luminoso ricordo che questo vangelo è stato bruciato dai cattolici ed è stato ritrovato sotto le sabbie non rispondo alle telefonate finché non ho finito portate pazienza già sono molto rauco vediamo un attimino in manetta è frate Mario nel covo insieme al boss insomma frate Mario a un certo punto ma insomma io che male ho fatto ora chiediamoci una cosetta in questo paese esistono delle leggi e le leggi dicono che se tu vai da un latitante e sai che quello è un latitante e non denunci la sua latitanza sei complice del latitante questo è quello che dice la legge se un medico viene chiamato per curare un latitante ferito lui è obbligato per il giuramento di Esculappio non so mi ricordo più di curarlo però deve avvertire la polizia che là c'è il latitante questo dice la legge scusate ancora ora qual è la differenza la differenza è che i cattolici i preti si pensano benedetti da Dio si pensano superiori alle leggi e vogliono che gli esseri umani più deboli siano in ginocchio per cui questo frate Mario intanto disprezza il sistema sociale in cui vive e poi la cosa più grave è che lui collaborava con la mafia nel senso che lui riceveva le offerte dei mafiosi e le distribuiva nel quartiere cioè anziché agire anziché nel quartiere cambiassero le condizioni di vita migliorassero le condizioni di vita lui prendeva i soldi della mafia e faceva la carità cioè praticamente manteneva la miseria questo è una cosa più sporca dal punto di vista morale etico di qualsiasi punto di vista che è una cosa in linea con il cristianesimo perché il cristianesimo abbiamo già detto è costruzione della miseria e lui altro non faceva che costruire la miseria dunque si chiede che male faccio costruire la miseria è ordine del mio dio cosa vuoi da me dopodiché questo mafioso viene mandato in Veneto al confino per cui qualcuno ce l'avrà da qualche parte queste qua sono varie vari tagli giornali l'ultimo è del 10-11 del 97 del Gazzettino e prendo spunto del Gazzettino sempre del 10-11 97 per un altro articolo gli italiani sgozzati da noi dice un pretestuoso uno che dice di essere agente segreto algerino in pratica dice i sette ammazzati sulla nave gli hanno sgozzati i servizi segreti algerini i giornali hanno preso la notizia e hanno sparato immediatamente in prima pagina in effetti è in corso un'operazione ricordo che non rispondo ai telefonati finché non ho finito un'operazione che è pericolosissima e che è il tentativo di omogenizzare di far diventare un'unica struttura religiosa o comunque farle agire insieme i musulmani i cristiani specialmente i cattolici e gli ebrei dove gli ebrei servono di copertura a tutte le malvagità fatte dai cristiani attraverso il loro olocausto e i musulmani servono come braccio di terrore questa notizia si è rivelata falsa e lo è in sé Sindone falso accertato notizia del 5-11-97 ora la Sindone scusate è un falso è un falso accertato però è un falso che fa comodo per mettere in ginocchio le persone allora per dei scienziati che determinano che quello è un falso c'è sempre qualcuno pronto a mettere in discussione a mettere in dubbio e stillare il dubbio per costringere le persone in ginocchio e questo è una cosa squallida e questo è una roba da cristiani andiamo ancora avanti altre due notiziuole sul gazzettino del 7-11-97 assolti i trapianti di testa sulle scimmie in pratica tagliano la testa la scimmia e cercano di trapiantarla su un'altra scimmia bene questa operazione è stata fatta da scienziati da pseudo scienziati da vermi vicino al Vaticano e al Vaticano va benissimo i trapianti di testa su delle scimmie condotti dal professore americano Robert White che è membro onorario della Pontificia Accademia delle Scienze è quanto si risponde informativamente in Vaticano dove ufficialmente ci si imita a confermare attraverso il vice direttore della sala stampa padre Ciro Benedettini che White è membro della Pontificia Accademia per me è una cosa obrobriosa e fa parte sempre dell'assoluta mancanza di rispetto che hanno i cristiani per il mondo che ci circonda il mondo che ci circonda è dato da Dio affinché loro lo distruggessero scusate abbiamo un'altra notizia dal Gazzettino del 6 novembre in Oregon ha vinto l'eutanasia come sempre i titoli di Faisano in Oregon ha vinto il diritto di ricorrere all'eutanasia cioè la persona non è proprietà del Dio non appartiene a qualcuno appartiene a se stessa è una persona ha diritto di decidere per se stessa non è proprietà del padrone questa è la lotta che stanno facendo i cattolici in quanto ritengono che ogni persona appartenga al loro sporco Dio andiamo avanti ancora è sempre il Gazzettino la Cassazione a favore di Scientology a noi di Scientology vi ho detto non me ne frega niente però ci sono delle delle affermazioni fatte sulla sentenza della Cassazione che dicono dichiaratamente parziale la sentenza che la condannava in seconda istanza perché è ispirata esclusivamente alle religioni di ascendenza biblica è legittima sotto molteplici profili questo tanto per ricordarci che battaglia è in corso ricordo sempre non rispondo al telefono finché non ho finito Vaticano Israele intesa prepara la visita del Papa va bene vediamo un attimo chi è subito pronto? pronto senta io lo sto ascoltando però può dire tutto quello che vuole ma non bestemmi allora il dio dei cattolici è un assassino il Gesù di Nazareth è un assassino ed è un delinquente pertanto non sono bestemmi e sono affermazioni di quello che è io sono un apprendista stregone e il mio compito è chiamare le cose con il loro vero nome che poi ai cattolici questo non piace perché devono stuprare i bambini devono mettere in ginocchio le persone che non si possono difendere questo è vergognoso per loro e per tutti gli altri andiamo avanti ancora allora vediamo un attivino sull'espresso del 30 ottobre 1997 al sabba con Omero e Orazio dice questo articolo e non è l'unico esempio di magia nera nel mondo classico se credete che bamboline di pezza pieni di spilli sacrifici umani occhi di pipistrello e formule magiche siano roba da stregoni africani del tutto estrane alla nostra cultura è arrivato il momento di ricredervi beh ma in che ambiente pensate che abbia attecchito al cristianesimo solo in questo ambiente potevate chire vediamo un attimo pronto? se poteva attecchire soltanto in un ambiente degenerato e non poteva attecchire in nessun altro ambiente in effetti in questo ambiente formule magiche siano roba da stregoni africani le pagine di Alcala Mondi curate da George Lux e tradotte in edizione ampliata per la collezione Lorenzo Valla della Mondadori sono pieni di racconti di magie miracoli, demoni che costituiscono una sorpresa per il lettore scolastico dei classici il curatore e celebre classicista professore Iale Howard e Berlino e Baltimora autore di studi fondamentali su poeti latini ha riunito in questa raccolta la scelta di testi che aiutano il lettore a capire come in tutta l'antichità greca romana sia sempre stata fiorente la magia questo tipo di magia di cui si parla qui è quella magia che è il deteriore la parte peggiore che esisteva all'interno del paganesimo ed era la parte più ignorante cioè nel senso che era la parte di coloro che aspettavano l'avvento del padrone che li risolvesse i loro problemi anziché la capacità degli esseri umani di prendere nelle proprie mani la decisione della propria vita e solo in un ambiente così poteva attecchire il cristianesimo non poteva attacchire in nessun altro ambiente cioè il Gesù che ferma il vento che scaccia i demoni che fa risorgere l'agra cioè una figura così demenziale poteva attaccare soltanto in un ambiente del genere ricordo sempre che il fatto che io stia parlando di paganesimo non è che non ritenga Gesù sempre il pazzo di Nazareth ho già spiegato abbondantemente cosa riteniamo è come per il paganesimo il cristianesimo rappresenti il male rappresenti l'essenza stessa della distruzione umana bene andiamo avanti ancora sul supplemento di donna della repubblica del 17 novembre del 97 abbiamo un articolo sui villaggi di Tenguelan in costa d'Avorio dove esistono delle scuole di apprendiste apprendiste streghe e apprendiste stregonesse in pratica in pratica dice in questi paesi spesso i farmaci prescritti dal medico non sono facili da trovare più che altro sono troppo costosi e non sempre fanno miracoli ci si affida così alle fetichers le feticiste termine che deriva dal latino fatum da cui l'italiano fatto non è vero il termine latino le tre fatta le tre fatta erano le tre statue che stavano a indicare le donne e gli sforzi che facevano le donne per partorire il termine fatto è un'altra cosa la parola del dio che è un altro discorso ancora comunque non ha importanza le donne di magia fra gli anni di Abè un popolo di tradizione matriarcale immigrato in costa d'Avorio dal vicino Ghana nel XVIII secolo la loro religione ufficiale è il cristianesimo chiaramente gli erano imposto con le armi che si sovrappone all'autentica fede africana quella che crede nelle forze sopranaturali nella moltitudine di geni e divinità che risiedono nelle cose in una roccia in un albero nel sole nell'acqua qui ognuno si vota a un feticio personale offrendo i sacrifici affinché adopta il suo potere per proteggere l'individuo eccetera da dove attingono la forza che li distingue da tutti gli altri esseri le fratucchiere non si nasce ma si diventa in genere è la maga del villaggio che identifica la sua rede senza uscire dai confini e così via in pratica cosa succede? succede che quando un sistema sociale quando un gruppo sociale ha dei bisogni ha delle necessità al suo interno nascono delle persone si producono delle persone che vanno a soddisfare queste necessità e di solito queste necessità sono quasi sempre operate da persone magiche molto bene per quanto riguarda il discorso al discorso degli ebrei e il discorso sempre del sull'ebraismo dice Russell nel suo Dio e la religione questa capacità mistificatrice è spesso associata alla crudeltà sin dal medioevo gli ebrei sono stati accusati di praticare riti omicidi non è mai esistita la benché minima prova di tale accusa e nessuna persona sana di mente che abbia compiuto delle indagini vi ha mai creduto ciò nonostante queste voci circolano ancora ho conosciuto dei russi che sono ancora convinti della loro veridicità e i nazisti non la mettono nemmeno in dubbio mistificazioni di questo tipo forniscono la scusa per infliggere torture e la convinzione infondata in esse costituisce la prova di un desiderio inconscio di trovare delle vittime da perseguitare fino alla fine del XVIII secolo vi era la teoria secondo la quale l'infermità di mente era dovuta all'essere posseduti dai demoni e questo ve l'ha regalata al Gesù di Nazareth ha perseguitato l'umanità per la sua imbecillità e paro sempre al Gesù di Nazareth dei quattro Vangeli ufficiali di conseguenza si credeva che ogni dolore sofferto dal paziente fosse sofferto anche dal diavolo cosicché la migliore delle terapie era di far soffrire il paziente a tal punto che il diavolo avrebbe deciso di abbandonarlo gli infermi di mente grazie a questa teoria venivano selvaggiamente picchiati e questa è una pratica cattolica ricordiamoci cioè quello quello che noi stiamo parlando e stiamo dicendo in tutte queste trasmissioni è che esiste degli esseri umani che percorrono la loro strada per diventare eterni esistono degli esseri umani che sviluppano il Dio che hanno dentro ed esiste una religione esiste il monoteismo che ha una sola funzione ed è quella di distruggere gli esseri umani metterli in ginocchio e stuprarli questa è la sua funzione generale vediamo pronto? Sì eseradio gamma 5 Sì vai in onda Simeoni adesso ma adesso non sta trasmettendo Simeoni Sì sto trasmettendo io anche se la mia voce non è buona ciao Tiziano ma che sento una roba sulla memoria c'è una cosa sulla memoria come sento una cosa sulla memoria no no probabilmente è sbagliato è sbagliato l'onda ecco va bene scusa me do giù sì vediamo ciao il problema che noi denunciamo è il fatto che esiste questa contrapposizione e questa contrapposizione è pronto? Sì non solo dire io voi potete avere tutte le vostre idee per carità però dare dell'imbecille dei cretini alle persone così mi sembra un po' una cosa no? ma scusa a chi ho dato dell'imbecille? non so ho sentito lì del signore di due cose lì quale signore scusa? qua ci sono io e basta io sentivo che parlavate di un uonario e ho dato degli imbecille ognuno le sue idee può dirle no non si può distruggere gli esseri umani non si può costruire campi di sterminio e pretendere di essere buoni non è accettabile questo questo è vergognoso non si può mentire però non si può neanche dare dell'imbecille del cretino no io ho dato del pazzo con l'altro tuo collega a San Francesco di quelle offese no no non diciamo cazzate io non sto offendendo nessuno io sto facendo delle analisi e chiamando le cose con il loro nome per cui se le persone si sentono offese perché io dico le cose come stanno sono fatte l'ora ti ringrazio di avermi dato la possibilità di dirle a posto andiamo arrivederci se bisogna capire questo io non posso scusate non chiamare le cose con il loro vero nome se io fossi un politico non potrei dire al Dio dei cristiani tu sei schifoso perché fai questo perché perché non rientra nella analogia vediamo un attimo pronto? sì ciao 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 senti volevo dirti una mia impressione no? sì io sono convinto che le persone che ti telefonano un po' così in modo anche provocatorio invitandoti a non offendere eccetera loro sono convinti e sono in buona fede e pensano che tu insomma sei andato un po' fuori con le staffe no? beh però io vorrei vorrei solo solo no? è un così un un mio sfizio no? domandare a queste persone no? io sono convinto che voi siete convinti di essere nel giusto e quindi telefonate per richiamare il conduttore di questa trasmissione però se ipoteticamente no? per ipotesi supponiamo di di farla non dandoti neanche lo 0,01% di probabilità che tu abbia ragione no? però dico esistesse anche questa minima no? frazione di possibilità che tu abbia ragione sarebbero disposti loro a cambiare idea no? non so se mi hai capito cioè di fare un gioco mentalmente e dire ma se supponiamo questo è fuori fuori di sé e allora sono a posto no? però supponiamo no? se per un piccolissimo non so non so che cosa potesse anche avere ragione su qualche cosa di quello che dice guarda che io non voglio dire che fai bene a fare la trasmissione come fai questi sono affari tuoi la responsabilità te la prendi tu l'hai già detto fino all'inizio della trasmissione ma dico su altre cose sul fatto che tu porti il risultato di alcune cose che studi che approfondisci eccetera no? vorrei attirarli su questo piano il mio intervento è questo ma su quello che tu stai facendo sui studi che fai sulla preparazione eccetera e sugli argomenti che porti su questi argomenti ci fosse un po' di ragione avessi un po' di ragione anche tu sarebbero loro disposti a dartela a riconoscertela questa questa ecco tutto qua non ho altro da dire grazie Marco ciao Marco no non sarebbero disposti ma spero di poterti spiegare perché pronto? ho scusa sono Tiziano dimmi tutto dimmi a che ora è che vai in onda perché io ti becco sempre sballato io ho perso tutto alle 15 e 5 sono andato in onda oggi ecco niente perché io c'è una radio prima che parla la memoria della resistenza e fino adesso che ascolto pensavo che no alle 3 dove andare alle 3 e 5 niente mi dispiace scusa sempre tutti giovedì alle 3 e 5 vabbè scusami ciao grazie perché ti dico di no Marco non sono disponibile perché la religione non è un partito politico non è una minestra cioè la religione coinvolge l'intimo più intimo della persona cioè quando io dico Gesù è il pazzo di Nazare e io faccio tutta un'analisi perché per definire questo io faccio un'analisi logica cioè io non dico uso la stregoneria per vedere cose diverse io uso la stregoneria ma non posso venire in radio a parlare delle mie percezioni di stregoneria vengo in radio a parlare di logica per cui la mia stregoneria mi spinge mi costringe a fare una ricerca sistematica a ricercare continuamente a leggere a studiare le cose per dare una spiegazione logica a quello che io vedo le mie sensazioni ora capisci bene che una persona sentire che io definisco Gesù di Nazareth un pazzo lei ha letto 50 volte se lei si sono lette i Vangeli quei passi li ha letti 50 volte però è talmente convinta che questo Gesù di Nazareth dei Vangeli Ufficiali sia il figlio del Dio sia il figlio del padrone che non mette minimamente in discussione quello che lei legge per cui il fatto che io metto in discussione il padrone metto in discussione il suo Dio chiede rispetto cioè non mi dice ma cosa stai dice no mi chiede rispetto dimenticando che non è il rispetto che vuole da me lei vuole sottomissione a quel Dio cioè a quell'immagine a cui io voglio spaccare il culo perché è un'immagine di merda è un'immagine che ha distrutto la storia il divenire umano ha ucciso milioni e milioni di persone perché il nazismo è solo un aspetto del cattolicesimo un aspetto però ha distrutto l'America Latina ha distrutto la cultura eccetera per quelle persone è quello che sto dicendo io è una cosa che non esiste Pronto? Scusa vorrei parlare con Simeone in diretta Sì sono in diretta Pronto? Sì Pronto Parlo con Simeone? Sì Ciao io mi chiamo Angelo sono d'accordo sui tuoi discorsi sai che mi fanno ridere molte cose quando riguarda i preti Pronto? Sì Sì ti parla più Il fatto che io con la regione in Italia non è che ce l'ho però io vedo su altre regioni ci scandalizziamo quando un prete va con altre persone con le donne cioè in Italia il cattolicismo mi fa ridere perché dice che non si può sposare ma perché uno non si può sposare io queste cose non riesco a capirle ho capito hai capito cosa voglio dire? Sì ho capito cioè queste cose che ora non voglio fare un esempio c'è la regione anglicana che permette di sposarsi io ho tutta la regione però in Italia c'è ancora questa mentalità quelle sono questioni interne comunque sì 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 io queste cose proprio non riesco proprio a concepirle poi altre cose non riesco a concepirle quando chiedono la carità cioè chiedono diciamo prendersi in chiesa quando si va in chiesa e vogliono avere così predicano predicano però dopo gli va a vedere che escono con i Mercedes queste cose qua io non so se sei d'accordo con me no sono le incongruenze queste sono le incongruenze della vita quelle che ti fanno vedere che qualcosa non funziona infatti non funziona però dico io io dico io poi non ci scandalizziamo quando vediamo che un prete oppure fa parte della mafia oppure ma la mafia può essere solo cattolica a parte perché questo è vero oppure fa parte fa parte delle cose tipo tipo che esce con una donna oppure se la fa con la saga strana queste cose qua io so queste cose perché le ho visto oppure che sono anche pedofili l'ho vissuta come esperienza personale sì sì ma niente no non voglio dire niente capito va bene fare un'altra cosa volevo dire però io una cosa che non riesco a capire cioè credo che tu non è che sia tanto coerente qualche volta cioè perché io qua abbiamo delle fotografie che tu che tu sei andato in chiesa eh non dire cazzate no 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 non sono cazzate guarda guarda che non sono cazzate perché ti te posso vabbè adesso siamo appena che sti cazzate il problema delle incongruenze esistono delle incongruenze però non sono quelle che fanno non sono quelle che sono importanti spesso appartengono all'interno della chiesa sono delle dinamiche loro delle dinamiche interne a noi queste non interessano più di tanto a noi interessa il pensiero interessa come questo pensiero viene formulato e come questo pensiero viene venduto il problema il problema è che quando si parla di religione si tocca all'intimo delle persone fra un percorso cristiano dove c'è l'ordine di distruggere il divenire degli esseri umani e il percorso pagano dove è imperativo sviluppare il dio che sia dentro non esiste nessuna possibilità di avvicinamento esiste soltanto uno scontro perché questo dico questo perché il paganesimo e la stragoneria possono esistere soltanto all'interno di un sistema sociale democratico eletto dalla nostra costituzione o da costituzioni di tipo liberale non è possibile che esista il paganesimo e la stragoneria in situazioni diverse in situazioni sociali diverse faccio un esempio quasi tutti i paganesimi sono stati distrutti attraverso la pena di morte sono stati distrutti attraverso la tortura se non c'è il pagano che viene convertito al cristianesimo non esiste la conversione al cristianesimo una persona che faceva un po' l'indiano che vediamo un attimo pronto? una persona che faceva l'indiano diceva che alcune tribù c'è si sono convertite al cristianesimo perché avevano già dentro di loro il concetto di trinità però sono convertite al cristianesimo perché non ne hanno potuto fare a meno come scelta però in realtà non sono cristiani perché i loro riti il loro modo di essere il loro modo di esporsi è diverso pronto? si buon pomeriggio Claudio volevo chiederle ma se Cristo figlio di Dio anche se non seppero questa domanda però scusi Cristo figlio di Dio diventato figlio dell'uomo non può prendere come dovrebbe prendere il peccato come l'uomo no? questo è un'altra incongruenza e anche la malattia che potrebbe essere anche la malattia mentale penso si è diventato un uomo perciò mi non mi scandalizzeria mia se fosse anche diventato pazzo grazie Claudio buongiorno ciao grazie beh scusate un attimo questo qua ha avuto un processo stando ai vangeli ufficiali in cui il magistrato gli ha chiesto ma tu davvero sei ti spacci pensa figlio di Dio è stato gaito vedrai me che arrivo a destra di mio padre sulle nuvole le stelle cadranno sulla terra insomma roba sto genere adesso è chiaro che è un povero pazzo cioè lui ha avuto un giusto processo ed è stato giustamente condannato al di là che poi si può disquisire sulla pena con un altro discorso pronto? si è Gianpaolo grazie a tutti grazie a tutti